E se volete possiamo andare a esaminare, intanto ricapitoliamo la situazione con Schumacher sempre più veloce in 1,21 e 5 millesimi, ferma a 7 giri davanti a Hill staccato di 133 millesimi poi Brandel, Coulthard, Alessia e Quinto col tempo di 1,22 e 36, Berger è sempre accreditato del 27esimo tempo Ecco io vorrei far notare comunque il sesto posto di Alboretto che direi è veramente molto interessante e importante soprattutto alla luce di quanto ha detto anche Minardi prima Ezio, l'atmosfera intanto in caso Ferrari? Sì, grande lavoro, stanno sostituendo adesso in questo momento stanno, Alessia è ancora piedato, sta guardando il lavoro dei meccanici e più che altro sta consultando i tempi dei colleghi, mentre Berger dovrebbe uscire proprio a minuti stanno adesso scaldando e provando la pressione delle ruote che sono ancora con le coperte per no fra le applicheranno tra poco ma dove si comincerà a uscire, Berger dovrà alcune indicazioni di massimo